Lunedì 25 novembre il grande calcio di Serie C torna protagonista su Rete 8 con un appuntamento imperdibile. Dallo stadio adriatico Giovanni Cornazia di Pescara segue in diretta e in chiaro il derby tra Pescara e Fineto, una sfida che promette emozioni e spettacolo. Dalle 19.30 non perderti l'ampio prepartita in diretta da Pescara con analisi, interviste e approfondimenti e dalle 20.30 la diretta in chiaro della gara. A seguire il post partita e le reazioni a caldo dei protagonisti, tutto in diretta su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre. Pescara e Fineto, vivi la passione del calcio, i grandi eventi sportivi, solo su Rete 8.